Ok, allora, sta funzionando, bene, avete mandato un po' di domande, mi sentite intanto? Immagino di sì, spero di sì, datemi un cenno, allora intanto mi sono messa a comoda, non fatemi domande subito perché mi hanno regalato questa felpa, ma io non so niente, il colpevole qua in mezzo a voi, aspetto un attimo, caspita siete in tanti, non vi aspettavo tutti voi, ok si sente, bene, grazie assistente, sempre numero uno, allora di che cosa vi parlo? Mi avete chiesto un po' varie ed eventuali, sia sul visual che sulla mia vita, oggi ho fatto un paio di consulenze di queste che sto mettendo di orientamento gratuito, che sembra essere utile a chi si approccia per la prima volta a questo mondo perché è difficilissimo, come sapete, come ripeto sempre, perché non si sa mai a chi chiedere, non c'è molta disponibilità in questo settore, quindi se avete delle domande scrivete nei commenti e le vediamo, se no se non volete farmi delle domande qua le potete fare in privato, però non ha molto senso, insomma sarebbe meglio condividere, io ho preparato un po' di libri perché è l'argomento che mi chiedete più spesso di condividere libri di visual con voi, questo è il momento giusto per prendersi un po' di tempo e farlo, uno su tutti, avete visto che vi parlo spesso di lui, io ho un amore spropositato per quello che fa lui, che ha fatto lui, che fa lui no perché non c'è più, però che ha fatto lui, che non è semplicemente un department store, però insomma questo è il libro, questa è proprio la sua vita prima di aprire il department store a Londra, poi vediamo, io intanto vi suggerisco qualche libro e voi scrivete se avete delle domande, mi state salutando un sacco, scusate se non vi considero ma voglio darvi delle info utili e non usare il vostro tempo così, dacci qualche strategia per tante boutique che abbiamo dovuto chiudere, data la situazione, ecco su questo vi dico che mi sto confrontando con, ciao Raffaella, mi sto confrontando con una responsabile di negozio con cui collaboro, uno dei miei clienti, per fare una diretta doppia in modo che posso darvi il suo punto di vista perché io direttamente in questo momento mi sento un po' inutile nel senso che essendo un negozio chiuso non posso darvi strategie per implementare il negozio in questo esatto momento, però vi posso insegnare quello che so, insomma condividere con voi la mia conoscenza e darvi un po' di dritte per quando riapriremo, speriamo presto perché non se ne può più, ma non voglio parlare di questo argomento, non voglio parlare di coronavirus perché ne abbiamo già abbastanza fin sopra i capelli, un altro che vi voglio suggerire soprattutto per chi sta creando il suo profilo adesso, che sta magari pensando di aprire un blog o di fare un Instagram, questo è fondamentale, non so quanti di voi legano in inglese, però credo può essere che ci sia anche la versione in italiano, don't make me think, non farmi pensare, questo è ottimo per capire fondamentalmente sul sito, ma sono cose che si possono applicare a qualsiasi settore, quindi anche per Instagram o per altri metodi di comunicazione, ed è proprio un approccio di buon senso all'usabilità, principalmente web, ma poi può essere qualsiasi altra cosa. Poi uno dei libricini più base che io ho di marketing, ho un meraviglioso segnalibro fatto da mia figlia non so quanti anni fa, 2012, ok, beato a me che scrivo sempre le date dietro ai disegni, marketing per tutte le tasche, questo può essere interessante per avere un approccio, per aprire un po' la mente, anche questo, tutto esaurito, questo è fatto apposta per i negozi, è molto interessante come avere la coda di clienti fuori dalla porta, è proprio fatto e sviluppato sul fisico, io questo lo avevo letto prima di aprire il mio negozio, per chi mi segue da un po' sa che io ho avuto un'avventura per un temporary che ho aperto insieme al mio socio qualche tempo fa, nel 2018 abbiamo tenuto aperto per un anno ed era un negozio di oggettistica di design, di oggettistica per la casa, facevamo una selezione e avevamo creato questo negozio meraviglioso, qualcosa trovate ancora online, ma era un temporary, quindi questo mi era stato molto utile all'inizio per capire alcune dinamiche che da questo lato, cioè da negoziante, non avevo ancora ben stabilito nella mia testa, però che sono state molto molto utili. Vado avanti con i libri? Avete altre domande? Va bene, io proseguo ragazzi. Allora, un altro libro che consiglio sempre è questo qua, che proprio banalmente si chiama Visual Merchandising ed è un libro in inglese di nuovo, che approccia proprio le basi del VM, ed è scritto da Tony Morgan, questa qua è la seconda edizione, sono sicura che ce ne sono di più recenti e basta, fondamentalmente ci sono tutte le basi del Visual, insomma un po' l'approccio basico al grouping, ai colori, a che tipo di props, a come stabilire il budget, eccetera, eccetera. Secondo me può esservi utile. Andiamo un pochino su di livello, con le mie manie dei colori, questo, il dizionario dei colori, fichissimo, fatto proprio per palette colori. Una lista dei libri? Sì, vi faccio un post sui libri, va bene? Così vi metto un po' di fotografie e di nome. Ovvio, ovvio, sì, scusate, io adesso vi faccio vedere al volo, poi la diretta la salvo così rimane per 24 ore, ma vi faccio un post sui libri, così che possiate vederli, magari ne aggiungo anche altri che mi vengono in mente, perché questi qua sono quelli che avevo sotto mano in questo momento, ho una libreria qui accanto e le ho presi. Allora, consigli su come intraprendere la carriera di Visual? Allora, dirti che la domanda che mi fanno più spesso e il motivo per cui ho scritto il mio ebook sarebbe una banalità, perché fondamentalmente è questo, l'argomento principale che mi viene chiesto su Instagram, sugli altri social che uso. Come si intraprende una carriera da Visual? Ok, si può partire da qualsiasi punto, nel senso che principalmente ci sono scuole, adesso per fortuna ci sono un sacco di scuole che insegnano Visual ed è molto utile, io insegno in alcune scuole, in alcune università master, ma ci sono corsi specializzati in questo, mi viene in mente IED, mi viene in mente Polimoda. Assistente, non ridere, non ridere, io il box domande neanche lo vedo, guarda, non appare nessun box domande, mio caro Matteo, assistente. Poi faremo anche una chiacchierata con Matteo nei prossimi giorni, adesso cercherò di capire quando. Stavo dicendo una cosa importantissima, ci sono tantissime scuole specializzate che fanno corsi specializzati di Visual, da IED a Marangoni mi sembra anche, Polimoda sicuramente, insomma situazioni di questo genere dove si può imparare il Visual, ma si può anche imparare in università, perché io per esempio insegno in Yulm, insegno nei master che sono Domus Academy e insegno in università americana, quindi ci sono veramente tantissimi livelli, poi ci sono i corsi professionali, ci sono corsi privati, ci sono persone che fanno corsi uno a uno con me, perché magari vogliono migliorare alcuni aspetti, quindi per intraprendere la carriera di Visual ci sono veramente tantissimi percorsi di studi che si possono fare, ma ciao Davide, io spero che presto prenderemo sto benedetto caffè, perché lo stiamo progettando da una vita, io spero che passi alla svelta che possiamo vederci per un caffè, scusate, quindi si può fare qualsiasi percorso di studi che ti insegni un po' le basi, ma la cosa più importante che ripeterò alla nausea, scusatemi ma lo farò per sempre, ripeterò alla nausea questa cosa, è fare esperienza, partendo anche dai livelli più bassi del retail, quindi banalmente piegando magliette, banalmente occupandosi della vendita, per capire bene quali sono le dinamiche e le varie funzioni che ci sono, le operation che ci sono all'interno del retail, per cui io ti direi di fare un percorso così e di capire anche perché magari le persone non, le aziende non ti prendano subito, è molto difficile trovare un'azienda che si faccia carico di una persona completamente nuova a questo settore perché l'esperienza fa la sua differenza. A scuola si può studiare una vetrina a due metri per tre vista da davanti ma nella vita non è così, nella vita non è mai così, difficilmente una vetrina è vista da davanti, proprio arrivando dalla strada frontalmente e difficilmente una vetrina è due metri per tre, c'è sempre qualche casino da risolvere. Qualcuno di voi mi ha chiesto com'è la giornata tipo di un visual? Dipende sempre perché come sapete la figura del visual ha tante sfumature. Mi piacerebbe far intervenire adesso Matteo perché lui si occupa di visual per un'azienda e potrebbe anche raccontarvi com'è la sua giornata appunto da visual di azienda ma così vi do un'idea generale e poi parleremo con Matteo in un altro momento. Allora l'idea generale è questa, un visual che lavora in store, quindi un visual prestamento operativo che esegue le linee guida e che si occupa dell'allestimento proprio sul campo in maniera fisica, io l'ho fatto per alcune aziende, una di queste è Diesel, quindi arrivavo alle 7 del mattino in negozio, mi sistemavo tutto quello che era stato lasciato in disordine la sera prima, parliamo di normale amministrazione, quindi non un giorno di vetrina ma un giorno in cui si faceva allestimento normale, ci si prendeva cura di quello che c'era, per cui arrivavo alle 7 del mattino, sistemavo quello che c'era da sistemare e poi cosa succedeva? fondamentalmente controllavo i dati di vendita, vedevo se le mie azioni interne al negozio avevano in qualche modo, ciao Diego, avevano in qualche modo portato dei vantaggi, se non avevano portato dei vantaggi allora modificavo quelle operazioni per cui andavo a preparare un tavolo di felpe, di magliette o cose di questo genere, per implementare le vendite di quei prodotti che avevano venduto meno. Una cosa che vi ripeterò anche questo all'esaurimento, quindi fermatemi a un certo punto, è che sì, ci va della creatività nel lavoro di visual per carità, per inventarsi le vetrine, per stare dietro a tutto quello che è il DNA, l'identità di un brand, di un negozio, anche che fosse un piccolo negozio indipendente, però è fondamentale capire che ci sono poi dei dati da analizzare, dei riscontri, verificare se è avvenuta o meno una vendita grazie ad un'azione che abbiamo fatto. Il visual è fatto per implementare le vendite, non è fatto soltanto per estetica, quindi questo è una delle piccole... i numeri sono fondamentali, Raffaella, vero? La matematica è fondamentale, per cui sì, è importantissimo portare a casa il risultato e fare cassetto, che è un po' il bisogno che abbiamo tutti, dal grande marchio a quello più piccolo, indipendentemente dall'investimento che facciamo nella vetrina. Adesso ho io una domanda, Matteo, quando è che faremo questa diretta doppia, così possiamo avere un dialogo e magari coinvolgere su altre cose le persone che ci seguono in questi giorni? Matteo è un ragazzo di Roma, di cui vi racconterò la storia quando si deciderà a fare la diretta con me e niente, è una persona con cui sto collaborando e che io chiamo buonariamente il mio assistente, perché è una persona molto affidabile e in settimana sono stranamente libero, anche tu, anche noi, tutti noi. Vi faccio vedere qualche... Ah, gli errori più comuni del visual. Ciao Ale. Allora, gli errori più comuni nel visual sono la gestione dello spazio, che può essere sia in vetrina che all'interno di un negozio. Quindi bisogna capire subito su quale strada... Sì, ti rispondo subito. esperienze di moda. Io faccio lezioni private e singole per i negozianti. Se vuoi, poi mi contatti anche con un messaggio e ci accordiamo, ti spiego un po' come funziona. Questo potrebbe essere interessante. Basta che mi iscrivi qui su Instagram e parliamo. Allora, gli errori più comuni nel visual sono sicuramente la gestione dello spazio sia in vetrina che all'interno del negozio. Perché? Fondamentalmente perché bisogna capire su che strada è il negozio, è situato il negozio. Perché il quartiere, la strada, se è pedonale, se è un passaggio di macchine, se è messa, se le persone che passano fanno soltanto un percorso in una direzione piuttosto che un'altra. E di conseguenza bisogna capire che messaggio si vuole passare, che tipo di cliente abbiamo che passa lì davanti. Insomma, c'è tutta una ricerca di questo genere. Ma facciamo finta che il negozio è già aperto ed è già su una strada. E noi capiamo che il cliente arriva da destra verso sinistra o viceversa. Dobbiamo fare in modo che lo spazio venga gestito, in modo che la prima cosa che vede il passante approcciandosi alla nostra vetrina è il cosiddetto focal point, punto focale. Quindi dove metteremo il nostro prodotto di punta. Per cui c'è da imparare a gestire lo spazio all'interno della vetrina, proprio come dicevo prima. Non è sufficiente imparare la base della vetrina a due metri per tre, ma serve anche poi capire che tutti i negozi sono diversi. C'è, non so, Moncler in Monte Napoleone che ha una vetrina di un metro e fa delle cose pazzesche. Tiffany ha delle vetrine di 40x40 e anche loro fanno delle vetrine incredibili. Quando sento clienti che mi dicono, ma io ho una vetrina piccola, mi blocca un po' la creatività, mostro sempre queste vetrine di 40x40, forse anche meno, perché sono veramente piccoli. Sono dei shadow box molto molto piccoli. La creatività è proprio un'altra cosa, bisogna saper usare lo spazio che si ha a disposizione. Quindi gli errori principali sono proprio legati alla gestione dello spazio, a la coerenza tra tipo di brand o di negozio che ho e tipo di messaggio che scambio con il passante. Perché se ci fate caso, in base alla vostra età, ai vostri gusti, a quello che preferite fare e al vostro approccio al mondo, noterete o meno delle vetrine. Alcune parlano con voi, altre non parlano assolutamente con voi. Ma non sempre c'è qualcosa di sbagliato, di visual, ma è proprio un linguaggio estetico e visivo che viene a solleticare il target giusto, che va a solleticare il target giusto. Utilizzi programmi come AutoCAD e Photoshop per i tuoi lavori? Arrivo subito a rispondere anche a te, una cosa alla volta. Utilizzi programmi come AutoCAD e Photoshop. Allora, io so usare Photoshop, ma neanche tanto bene. Per tanto tempo ho progettato a mano, proprio a mano, carta penna. Ancora adesso, quando mi succede che ho un'idea, la butto giù e schizzo a mano. Tante cose le capisco solo io, però sono un ottimo reminder. Ho avuto, ho ancora, ma non la sto usando molto, una tavoletta Wacom con la penna. Quindi una penna capacitiva che mi permette di, insomma, di disegnare contratti diversi. Non uso dei programmi particolari. Ci sono delle persone molto, molto brave, molto preparate, che sanno usare i programmi 3D. Non sono io una di queste. Mi sono sempre adattata molto a quello che c'era a disposizione all'interno delle varie aziende, però io per me, per i miei clienti, difficilmente presento dei render. È più probabile che io presenti delle mood board per far capire un po' l'idea generale, faccia ricerca di materiali e quindi così. Allora, Matteo mi chiede Qualche dritta per chi vorrebbe sapere di più riguardo la storia del VM e la sua evoluzione. Non fatemi aprire questo capitolo. Vi prego, perché io potrei parlarvi intanto di lui per un'ora. Ma qualche dritta. Se volete ve lo insegno io, però stiamo qui veramente... Ve lo dico, mi vengono gli occhi a curicino perché è una cosa che io amo. Per imparare, ritele, VM, soprattutto la storia, bisogna studiare. Come per ogni altra cosa, bisogna studiare perché non ci si ferma allo spessore di un libro, di testo che ci viene dato. Bisogna avere la curiosità. Vi posso dire che cosa faccio io e che cosa faccio fare ai miei studenti. Allora, ai miei studenti faccio fare tanta ricerca. Faccio fare lezioni frontali per cui insegno in classe con delle slide che sono principalmente slide fotografiche o di immagini. E quello che impariamo di solito in classe lo faccio vedere sul campo reale. Cioè andiamo a fare una... come si chiama? Un tour, un retail safari. Per appunto vedere... Non so, se abbiamo osservato per esempio in classe abbiamo fatto una lezione che riguarda i trend. Andiamo a vedere poi sul campo. Sono fortunata perché io insegno a Milano e a Milano abbiamo Via Monte Napoleone che è piena dei più grandi brand che ci sono al mondo e quindi è facile avere a disposizione il quadrilatero della moda per poter mostrare quali sono effettivamente i trend attuati, come gli stilisti interpretano il loro messaggio, la loro identità, eccetera, eccetera. Non gli stilisti ma i brand. Perdonatemi questo lapsus. Detto questo, per imparare l'evoluzione del VM o ve lo insegno io, come dicevo, oppure dovete fare tanta ricerca, scoprire cosa è successo, cioè partire veramente dai mercati di strada che ci sono ancora andando attraverso tutta quella che è stata l'evoluzione. Per esempio io sono appassionata di Selfridge che di fatto ha aperto un department store nel momento in cui c'era il boom. Cioè tutte le persone si spostavano dalla campagna alla città e per cui quando è nato il primo department store che non è Selfridge ma che è Le Bon Marché 1842, se non vado errata, se mi ricordo bene, allora tutte le persone si sono spostate in città e c'era bisogno di dargli dei luoghi dove poter acquistare. Cioè si è vista una nuova opportunità. Come tutti i momenti di crisi e come anche questo secondo me sarà, si vede una nuova opportunità. Matteo dice che faccio dei grandi, dei gran bel disegni con la tavoletta Wacom. Ti ringrazio ma non sono così bravissima, proprio specializzata in questo, non è il mio. Ammetto che non è il mio. 1842 sei andato a controllare perché non ti fidavi. Ragazzi, quando io ho visto Le Bon Marché sono stata, allora, prima rivelazione è che sono stata a Parigi per la prima volta quest'anno. Già due volte ma soltanto quest'anno non ero mai stata a Parigi. E quando sono andata, la prima volta mi sono voluta fare un po' un giro per capire, per vedere le cose che interessano a me. Va bene, la Torre Eiffello vista, fantastico, ma mi interessava vedere appunto Le Bon Marché, alcuni negozi che avevo lì sulla lista. Purtroppo Colette ha chiuso a fine 2018, per cui niente Colette, ma ho visto Le Bon Marché. Quando io mi sono trovata lì all'angolo, dove io ho sempre visto il punto da cui viene fotografato spesso Le Bon Marché, ciao Stefano! Praticamente, come si dice, ho visto appunto questo punto di vista che è l'angolo, mi si è riempito il cuore, perché vedere una cosa che è così tanto mastodontica, forte, che c'è da così tanto, che è un'istituzione che è il primo nel suo genere, è stato per me emozionante. Non ho guardato, ho solo messo a frutto quello che mi fai studiare quando devo riposare. Eh sì, sono una prof un po' cattiva. Conosci il libro VM, la comunicazione del punto vendita, dare valore all'esperienza del cliente, di Zaghi? Se sì, cosa ne pensi a riguardo? Allora, conosco di fama la prof Zaghi, che insegna in Bocconi, correggimi se sbaglio, non ho mai avuto a che fare con lei direttamente, credo che siamo connesse su LinkedIn, ma non ci siamo mai scambiate, fatto chiacchiere, insomma, sull'argomento, ma, quindi, non ho letto il libro, e non posso darti un parere a riguardo, quindi non lo so. Quanto tempo si ha a disposizione per preparare un progetto? Uh, allora, quanto tempo si ha a disposizione per preparare un progetto di che genere? Se riesci ad essere più specifica, magari provo a risponderti adesso così a Grandi Linee, allora, Grandi Linee ti posso dire che, se lavori per una grande azienda, e sei un visual di headquarter, quindi, che sta in ufficio a progettare vetrine, e allestimenti, tendenzialmente, quando viene creata la collezione, quando c'è il periodo della vendita in showroom, viene anche affiancato tutto il progetto di visual e di immagine, se non addirittura prima, durante la creazione proprio della collezione, sono cose che vanno di pari passo, soprattutto nelle grandi aziende, quindi, per rispondere alla tua domanda, un po' in maniera generica, nei massimi sistemi, nelle grandi aziende, circa un anno di preparazione e di sviluppo dell'idea, per vetrine principalmente, e per magari i fitting dei negozi. Se invece parliamo di situazioni più piccole, negozi indipendenti, va un po', cioè, tante volte arrivi in negozio e dici, guarda, ho comprato, il negozianza ti dice, ho comprato questi nuovi capi, me li inserisci e tu dici, sì, ok, e quindi deve essere pronta a poterlo fare all'istante. Lo so che fai nervosire molte persone, ma per tantissime cose, la risposta dipende, funziona molto bene, perché dipende sempre dalla situazione. Allora, stai pensando a qualche progetto futuro per i ragazzi che ti seguono e vorrebbero addentrarsi nel VM? Io ho già attivi dei programmi per chi si approccia al visual, che sono di solito programmi uno a uno, perché appunto io insegnando in università, in questo momento faccio un po' fatica, in questo momento dell'anno, in questa fascia dell'anno, faccio un po' fatica, perché ci sono tutti i corsi, i master, fino a fine marzo, di solito, di solito non in questo periodo stretto, però di solito funziona così, io sono presa da quello. Per cui non ho dei corsi in classe o fisici per gli studenti, ce le ho per i negozianti, collaboro spesso con ConfCommercio, collaboro con le associazioni di categoria, non so, Bergamo, Lodi, situazioni di questo genere, più ristrette. Per i ragazzi sicuramente io sto cercando di mettere a punto il libro di visual, che vorrei anche usare come libro di base per le mie lezioni, e raccontare un po' il visual in un modo diverso da quello che ho trovato finora in giro, per cui questo mi piacerebbe molto, e chissà che magari questa reclusione forzata mi dia un po' di tempo per farlo, non lo so, perché sono sommersa da tutto quello che rimane indietro, più, come probabilmente sapete tutti, sono anche una mamma, per cui ho due bimbi da gestire, che è abbastanza complicato, e basta, insomma, questi sono un po' i progetti futuri, però i progetti futuri veramente mi piacerebbe l'idea, insieme a Matteo che mi sta supportando in questo, è quella di creare dei corsi su Milano e su Roma principalmente, per i negozianti, magari in una stagione che può essere agosto, adesso bisogna anche vedere come è l'andamento di questa situazione, però mi piacerebbe potervi portare in classe, in aula con me, e avere un gruppetto, insomma, di persone che mi seguono, che possono poi far parte di questo corso, di questi corsi che farò appunto su Milano, e Roma. Qualcun altro qualche domanda? Io vi faccio vedere degli altri libri, ah qualcuno mi aveva chiesto se ci sono delle riviste di settore, a cui fare riferimento, e questo libro cade a fagiolo, perché io ho un sacco, ho diversi libri di questa etichetta, che si chiama Frame, che di base è un magazine, proprio si chiama Frame Magazine, e creano dei libri che sono molto molto specifici, questo per esempio è il numero due di Happening, e sono design per eventi, ed è bellissimo, perché raccoglie appunto tutte delle situazioni, in cui sono stati creati degli eventi, magari interattivi, dove le persone facevano cose, per cui è molto stimolante, perché spesso fare ricerca su queste cose è molto complicato, si tratta di eventi privati, di situazioni in cui magari non tutti hanno accesso, e quindi invece ci sono delle pagine intere, io non so quanto possiate vedere, però delle pagine intere dedicate ai vari eventi, alcune sono sfilate, è diviso per installazioni sfilate, mostre eccetera eccetera, ed è molto buono, e questa è una delle cose che mi carica di più, cioè il magazine è bellissimo, potete seguire sia il profilo Instagram, proprio di Frame Magazine, sia il sito, il blog, sia il magazine, proprio lui cartaceo, che è molto molto bello, hanno fatto delle cose meravigliose, l'anno scorso per il salone, anche l'anno prima, Diego, se sei ancora collegato, Diego ha collaborato anche con loro, e ho avuto modo di conoscere una delle persone che lavora per il magazine, sono veramente, riempiono di conoscenza questo settore, che a volte è un po' ostile nel dare informazioni, un altro, sempre edito da Frame, questo qua è un pochino conciato, l'ho usato un pochino, è un po' sporco, un po' di inchiostro, di studio, eccetera, eccetera, questo è Power Shop, sempre di Frame, c'è un'altra domanda, il BM è ruolo multitasking, finisco un attimo di dirvi di questo libro, questo è Power Shop, volume 5, ce ne sono infiniti, perché credo che esca ogni anno, Power Shop, e io ne ho due o tre, non mi ricordo quali altri ho, però fa vedere proprio i negozi, la planimetria, come sono stati realizzati, come vengono gestiti, tutto il resto, questa è una vera figata, non solo per visual, ma anche per architetti, insomma, per vedere un po' quello che c'è. Allora, a Bolognese mi chiede, il VM è un ruolo multitasking nell'azienda fast fashion, è normale, posso stare in cassa, come nei camerini, parte del giorno? Sì, 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 è normale, allora, il lavoro del visual all'interno di un'azienda molto strutturata è complicato, il lavoro del visual in generale è complicato, come tutti i lavori, ma nello specifico, il lavoro del visual è un lavoro che richiede quello di essere molto, 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 molto diplomatico, quindi, di riuscire a mediare tra la tua conoscenza, quello che ti richiede il brand, quello che vorrebbe i responsabili di negozio, quello che vorrebbe, per esempio, l'assistente alla vendita che ti dice, no, con la maglietta non la so piegare in quel modo, e allora gli cambia la piegatura rispetto all'allestimento che hai fatto tu, per cui capita molto spesso di essere nel mezzo di tante dinamiche e di dover mantenere la calma perché un visual da solo non esiste come nessun altro all'interno di una squadra di un retail. Succede sempre di più che nelle grandi aziende il visual debba fare un po' altri ruoli. A me è successo quando io lavoravo in diesel che facendo il visual in store, quindi che passavo la mia giornata dalle 7 alle 4, dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio lo passavo in negozio facendo quello che io dovevo fare cioè quello che riguardava me controllare i dati piegare cose sistemare cambiare manichini fare la rotazione del prodotto e tutto il resto capitava che durante la pausa pranzo io dovessi coprire un po' il piano quindi se entrava qualche cliente avrei dovuto vendere e l'ho fatto quindi sì può succedere mi rendo conto che è un po' frustrante però io credo che aiuti un'esperienza del genere che non sarà il lavoro della tua vita così per sempre perché si può sempre cambiare intanto mi muovo perché mi sto un po' bloccando allora si può sempre cambiare prendi il lato positivo mi viene da dire prendi il lato positivo e impara tutti i vari step tutti i processi che ci sono all'interno del retail così che quando sarai tu come si chiama quando sarai tu quello che dovrà insomma dirigere i lavori di visual saprai che fare una certa piegatura può mettere in difficoltà l'assistente alla vera vendita quando le persone vanno al camerino succede questo e quindi il tuo allestimento viene svuotato per cui tutte queste cose che impari le potrai mettere in atto in un momento in cui ti servirà per essere tu da solo sulle tue gambe a fare tutto c'è ancora i mago non so che cosa sia i mago per cui non so dirti se c'è ancora mi puoi spiegare cos'è la richiesta è che cos'è il franchising in questo caso in questo caso non sono la persona indicata per spiegartelo nel senso che posso darti delle informazioni base sul franchising ma non è non è mia competenza io ad esempio da bravo operativo prendo schiaffi a destra e a sinistra sì lavorare lavorare in negozio come operativo è un lavoro che mette a dura prova e indubbiamente e che che non tutti si sentono di fare ecco mi verrebbe da dire così Oliva Giuseppe io non so non so che cosa sia i mago i mago è una rivista tedesca ah no non la conosco non la conosco guarda ho google qui aperto è un lavoro che possiamo fare tutti quando non sappiamo una cosa aprire google e vedere non la conosco è belga però qua c'è i mago travel events lifestyle magazine non saprei credo che esista ancora ma non saprei dirti se c'è e se riguarda questo questo settore su google c'è scritto che è belga però potrei potrei sbagliarmi aver letto male non la conosco non la conosco non so darti la compravi prima ok mi fa piacere non l'ho mai comprata non non saprei Matteo altre domande tu che sei abituato a fare le domande alla prof che cos'altro vi posso raccontare vi ho fatto vedere i libri vi ho detto un po' di self e perché e perché insomma ho un po' questa passione dai assistente non fare scena muta sono sicura che hai qualche domanda anche tu ah ce ne sarebbero un macello vai vai tu mettile se riesco a rispondere ben volentieri tra l'altro mi piacerebbe poter controllare in qualche modo le domande ma non so come si fa Beatrice mi chiede ciao curi i layout interni o fai vetrine entrambe le cose e anche insegno però si faccio entrambe le cose dipende per chi io ultimamente sto cercando di fare meno allestimenti possibili ho un cliente abbastanza grande per quale curo principalmente il layout interno e hanno delle vetrine al momento sono state molto semplici per cui non c'è stata una grande progettazione ma lavoriamo insieme da poco tempo e quindi non c'è stato neanche il tempo di programmare perché da un anno io collaboro con questo brand che aveva bisogno un po' una rimessa in sesto però mi occupo sia delle auto interni sia delle vetrine e quello che è il mio desiderio principale è spostarmi sull'insegnamento sulla divulgazione su questo tipo di di argomento Beatrice Matteo hai detto che hai un sacco di domande voglio sentire voglio sentirne almeno una adesso inviterò adesso improvvisamente invito ah eccolo è qua il box delle domande scusate è la primissima diretta allora le domande mi chiedono come passi il tempo in questi giorni ok come passo il tempo in questi giorni come lo passiamo tutti nel senso che quando quando non ho i bambini con me tipo adesso che sono dal loro papà che abitano lo stesso comune quando quando non li ho cerco di recuperare tutto quello che è rimasto indietro per cui rispondere a mail rispondere qui su Instagram creare contenuti andare avanti con i progetti che devo portare avanti nonostante adesso sia tutto chiuso rispondere ai miei studenti leggere i loro compiti preparare gli esami che sono slittati eccetera eccetera quindi questa è una delle cose insomma che mi occupa queste sono le cose che mi occupano di più quando invece ho i bambini io fino alle 22 circa sono mamma a tempo pieno con loro e poi se riesco dalle 21 22 quando loro vanno a dormire mi mi metto a lavorare quindi sono un po' smistata in questo però dopo dopo aver avuto i bambini a casa sono cotta quindi è molto difficile lavorare Matteo ci sono periodi per un VM in cui cala il lavoro? eh dipende che VM tendenzialmente guarda se sei un freelance come me l'estate l'estate è un periodo abbastanza difficile perché tra che ci sono i saldi situazioni di questo genere l'estate soprattutto in Italia stiamo parlando di Italia perché poi ogni mercato è diverso l'estate cala abbastanza lavoro e tu dici se sì quali sono i periodi come si occupa il tempo per rendere profittevole la stagione a seguire bisognerebbe programmare uno dei grandissimi lavori da visual è la programmazione perché una volta che tu hai il calendario io più volte nei miei corsi nei video che ho online così ho spiegato come si crea un calendario e calendario vetrine calendario allestimenti come si sfruttano come si sfruttano le festività come si sfruttano le situazioni affinché non sia una cosa pensata all'ultimo minuto quindi la programmazione per cui come ci si prepara programmando ed essendo super forti facendo un po' come si fa adesso come stiamo facendo in questo periodo usare i tempi morti per tornare più forti di prima continuare a studiare prepararsi programmare avere tutto pronto perché poi se prendiamo come esempio l'estate quindi possiamo dire da giugno ad agosto intero a metà settembre e poi tornano a bomba e rientri da scuola e rientri a lavoro e poi c'è subito natale insomma bisogna stare dietro a queste cose qua il VM si applica al settore solo al settore abbigliamento? no 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 il VM si applica a tutto io ho lavorato con farmacie ho insegnato a negozianti di ogni genere ho fatto lezione dedicata a una pasticceria ho lavorato nel marketing per una caffetteria americana prima che arrivasse Starbucks in Italia e mi occupavo non solo del marketing ma anche di tutta la parte estetica e quindi di rotazione del prodotto per cui panini, colazione a seconda dell'orario ho lavorato per un hotel e ho applicato le regole del visual per implementare i servizi che questo hotel forniva all'interno di ogni stanza facendo proprio un restyling sia estetico quindi sia della decisione delle lenzuola dei cestini per il necessario da bagno eccetera eccetera sia i vari cavalieri che comunicavano la spa piuttosto che altre cose per cui il visual si può davvero usare a tutti i livelli in tutti i settori ok e questa è una grandissima battaglia mia perché invece viene viene spesso viene spesso concepito soltanto per la moda soltanto per i grandi marchi in realtà loro lo hanno portato alla fama mettiamola così e investendoci ciao Andrea e investendoci tanti soldi hanno di fatto aiutato l'industria del visual a crescere ma non è soltanto per loro ok ho lavorato lavori all'estero allora ho lavorato all'estero io ho vissuto tre anni a Londra tantissimi anni fa tra 2003 e 2006 quasi tre anni a Londra sì e lavoravo per Prada in boutique poi ho lavorato in Giappone per Roberto Cavalli dove sono stata quasi otto mesi sette mesi qualcosa e ho lavorato a New York parliamo allora Giappone 2009 New York i primi mesi del 2010 e anche lì ho lavorato per e lì ho iniziato un po' la mia carriera da freelance mettiamola così perché ho iniziato il mio canale YouTube dove ho iniziato a spiegare un po' di visual che è ancora attivo ma che non ho sempre il tempo di aggiornare e vedo che ho molte più persone su Instagram però insomma cercherò di fare sempre un po' un po' e lavoro all'estero adesso ho un cliente che ha uno showroom qui a Milano che vende scarpe e a questo proposito mi ricordo adesso poi vado a vedere le domande mi sembra che qualcuno mi abbia chiesto come ho fatto ad allestire 500 metri quadri in un giorno quindi ho questo showroom che si occupa di scarpe di vari marchi di scarpe che ha uno showroom anche a Parigi quindi in questo senso sì lavoro lì ho lavorato a Londra per un altro cliente che ho che si occupa invece di abbigliamento perché loro hanno un corner all'interno di Fenwick e ne stavano aprendo uno prima che succedesse tutto questo casino all'interno di Arrods che sarei dovuta andare ad allestire ma che non so non so come sia come sia evoluta la cosa e insegno a Ginevra alla ISG luxury school che è un master però anche qua avevo due lezioni programmate ne avevo già fatte due avevo altre due lezioni programmate una per il 5 di marzo una per il 17 che sono state ovviamente bloccate com'è il visual come è visto il visual all'estero intanto capiscono subito che cos'è il visual perché qui in Italia quando dici visual merchandising che cosa fai e mi occupo di visual merchandising ti dicono e che cosa sarebbe allora la mia risposta è diventata allestimento strategico per negozi vetrine spazi espositivi ah la vetrinista ecco no non la vetrinista non faccio la vetrinista quindi all'estero è molto più semplice perché questa parola che non la traduzione è compresa è visto molto bene è molto utile e ci sono ovviamente non si può parlare in maniera generale di tutto però ci sono posti dove è più ti dicono ah il vetrinista sì sì mi dicono così Matteo ecco appunto e ci sono posti posti nel senso che ovviamente in Inghilterra Londra è un posto dove dove c'è molto fermento e dove io sogno di insegnare un giorno quando i miei nanetti mi permetteranno di farlo ma i miei nanetti sarebbero i miei figli scusate ma detto questo all'estero è molto più semplice capirlo perché hanno una conoscenza di quel ruolo e la comprensione del termine che è molto più più ampia ti dico anche che però noi abbiamo una grandissima tradizione di visual in Italia per dirtene uno Giorgio Armani che è ancora in vita e che fa ancora il suo lavoro egregiamente che io amo particolarmente e stimo particolarmente uno dei suoi primi lavori dopo aver lasciato medicina è stato quello di fare il visual in rinascente a Milano si occupava delle vetrine e ancora adesso ci sono volte in cui lui mette un po' mano dentro le vetrine del sistema quindi abbiamo dei grandi nomi che si sono occupati della vetrinistica poi se un giorno parleremo della storia della vetrinistica vedrete che alcuni artisti molto famosi negli anni 20 hanno un po' riversato la loro frustrazione nel creare vetrine per fare in modo che le loro opere fossero visibili a più persone possibili e poi invece al contrario negli anni 50 ci sono stati giovani artisti che stavano studiando arte Andy Warhol per dirvene uno che mentre studiava sperimentava facendo vetrine quindi fare vetrine è sempre stata una cosa molto figa ci sono app utili che un VM dovrebbe assolutamente avere non uso nessuna app in particolare cioè ce ne sono alcune che mi avevano contattato per fare dei beta test appunto attraverso Instagram ma non sono cose stra-indispensabili dipende sempre che ruolo hai all'interno dell'azienda lavori da sola esempio creando una vetrina o facendo restyling di un punto vendita sei affiancata da architetti o altre figure allora il lavoro del visual non è mai da solo nel senso che hai sempre bisogno di qualcuno dipende sempre che cosa stai facendo però se devi soltanto fare un po' di restyling cambio merce si fa si fa il confronto con lo store manager con i dati di vendita con quello di cui ha bisogno con il passaggio che c'è in quel periodo altrimenti se c'è proprio da fare un lavorone di refitting del negozio allora si c'è bisogno assolutamente di architetti di specialisti della luce nessun lavoro è un'isola cioè nessuno mai non si può io non ho delle persone di riferimento se non Matteo che è un grande supporto ma ci conosciamo da veramente poco stiamo iniziando adesso a muovere i primi passi insieme di collaborazioni però tendenzialmente io non ho una persona che mi segue e che mi fa tutto ho vari contatti ovviamente a seconda di quello che devo fare posso chiamare posso contattare insomma ecco volevo dare un'occhiata veloce alle domande che mi avevate lasciato nel box quantità tu agi hai non so più di 20 ne ho perso il conto e continuo a farne e continuerò a farne racconto il mio percorso ve lo racconto nella prossima diretta il mio percorso perché è un po' lungo parla di Milano perché la ami Milano mi sta facendo soffrire perché io abito al confine con Milano e non posso neanche vedere mezzo Palazzo Liberty in questo momento è una distanza forzata ma che va bene vi racconterò anche di Milano per quali aziende della moda hai lavorato? per tantissime aziende ho lavorato per Ralph Lauren piegavo un maglietto 8 ore al giorno chi ha letto il mio ebook lo sa perché è una storia che racconto spesso per Prada lo dicevo prima per Diesel lo dicevo prima per Nike ho lavorato per Cruciani quando faceva anche solo Kashmir è stato uno dei miei primi lavori ho lavorato per sto pensando perché ne ho passate talmente tante Roberto Cavalli in Giappone a New York ho lavorato più per negozi indipendenti quindi piccole cartolerie situazioni insomma un pochino più piccole è insomma così come sei riuscita ad allestire 500 metri quadri soltanto in un giorno in soltanto un giorno come ho fatto allora le scarpe sono forse almeno per me la cosa più semplice da allestire lo spazio già lo conoscevo il prodotto lo conoscevo lo spazio di 500 metri quadri è diviso in box quindi ogni brand aveva il suo box o i suoi due box in cui allestire le cose e non c'è tantissima creatività all'interno dello showroom non bisogna fare proprio delle follie bisogna posizionare le scarpe partendo ovviamente a dare priorità a quello che è più insomma più importante differenze tra visual e vetrinista mi sembra di averlo detto possiamo approfondire non vi voglio tenere oltre perché a breve scade scade l'ora di connessione e va giù la diretta la giornata del visual lo abbiamo sviscerato velocemente ok io direi che più o meno più o meno risposta a tutti ci sono come si fa a contattarmi? beh instagram è un ottimo mezzo per contattarmi potete mandarmi un direct io Matteo vi è testimone io rispondo a tutti rispondo a tutti magari ci metto qualche giorno ma rispondo veramente a tutti e non rispondo con il cuoricino o con il pollice leggo quello che mi scrivete e cerco di rispondervi via mail al mio indirizzo che è marica at maricagigante.com sto pensando come altro potete contattarmi fondamentalmente queste sono le due cose che io uso di più per cui sono qua spero che questa diretta sia stata utile per voi a me è piaciuto perché mi piace parlare di questa materia e basta adesso vi lascio andare è quasi ora qui a Milano si prepara intorno a quest'ora si inizia a pensare che cosa fare per cena quindi Arcia mi chiede I'm keen on listening to you speak could you please do a live video in English too please I will do will do ok grazie mille per il tuo tempo questo tempo io ve lo regalo volentieri quando posso fa piacere anche a me perché poi sorgono sempre delle domande che mi che mi intrigano che mi interessano e che che possono essere spunto per tutti mi piace insomma se continuate a seguirmi in questi giorni ve l'ho detto voglio fare delle dirette portando delle altre persone se avete suggerimenti magari vi lascio il box mi dite che tipo di di diretta mi interessa che tipo di argomento io cerco di accontentarvi ok ciao ciao a tutti grazie ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti